Ciao ragazzi, eccoci di nuovo in diretta qui da Pian Ritz, siamo al Ways & Ways, adesso vi porto sempre con me velocemente, io vi chiedo scusa della qualità del video e della quantità, facciamo un giro veloce e speriamo di appagare un po' la vostra coniugità, l'unico consiglio che vi do sempre è quello di girare, se potete venite anche qua che è una cosa eccezionale, andiamo! Questa è l'entrata del Ways & Ways, ecco qua siamo all'ottava edizione, ok andiamo, buongiorno! ok qui a Pian Ritz è ormai casa dei surfisti, degli skater e partiamo già da questa rampa, testita per l'occasione dove i ragazzini nascono con gli skaters, antichamente apposta dalla cappella, anche vediamo qualche domarino, con i ragazzini dei 6 ai 10 anni che si rilbertono, bene dai continuiamo! al giro qui siamo nella zona relax relax nel senso che c'è un po di tutto da mangiare come vedete tutto nello stile vintage surfer raggiù c'è il palco adesso vi ci porto state con me abbiate pazienza abbiamo gli amici della dmd eccoli qua relax qui tutta la collezione dei caschi dmd nuovo nato in casa dmd molto bello è l'ho visto prima l'ho visionato come si deve qui addirittura abbiamo delle tende quasi con i capitelli vi faccio vedere un po di cose biciclette elettriche qui si gioca guardate giù in fondo si vede l'oceano intanto noi giriamo facciamo un po i turisti e curiosiamo così dai ciao robie abbiamo anche il muro della morte questo qui poi si ritrova un po da per tutto l'ho visto l'ultima volta in austria al facer si dai ce la giriamo così tranquilli senza troppe protese vediamo qui lo stand della bmw hanno dei pezzi davvero incredibili ragazzi questo fantastico sidecar e un altro guardate questa proprio la moto da surfer questa frisbee guardate il fanalino il fanalino posteriore fatto con la ruota di uno skate sono calma Giusto qui come si suol dire è la cassa centrale, quindi dove sono i loro uffici, dove si chiedono info, loro ti danno questi cartelli qua, che fanno loro, tu vieni qua, prendi il tuo e te lo vai a pendere fuori dalla tua tenda. Quindi poi abbiamo magliette, magliettine, tutto il merchandising, le ragazze molto simpatiche e disponibili nelle spiegazioni e tutto quanto, abbiamo qui un expo fotografico. Buongiorno, chi è l'artista? Io l'ho 10, 10 fotografici. Ah sono 10 fotografici, 10 differenti. Ok, quindi ragazzi qua abbiamo 10 artisti differenti, però è impossibile farvi vedere tutto. e bene soprattutto. L'Italia? Sì. Come? D'ora? Bergamo, Milano. Tu con loro? Bergamo. Ok. A tutti. Se volete farvi fare una foto. Allo? Ma va? Ma va bene? Eccoci qua. Ragazzi l'aria che si respira qua è veramente molto easy, molto relax, tranquillità. Un po' di amicizia. Guardate com'è bello questo stand. Cose carine, interessanti. Ci sono anche tutte più o meno le grandi case. Qui siamo alla Honda. Ok. Andiamo a vedere il palco dove si farà musica. adesso non so precisamente quando, gli orari o che. Oggi hanno fatto un giorno in più praticamente. automaticamente. niente o ing corriội. Ehm... Chief Juana. Il nostro amico François, e lui fa delle moto eccezionali, guardate che roba! Lui non è François, probabilmente è un amico, François è un personaggio veramente Perfetto, so I'm going to do some hiking, see you soon, ok, see you soon again, have a good time, good to see you Hello, how are you? How are you? Ok, not a question C'è la Royal Enfield, e per come alcuni se la possono immaginare, guardate cosa hanno tirato fuori Vediamo cosa fa con la maglietta in diretta Ciao! 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 E voilà! Nouvelle t-shirt! Ciao! Ciao! Qui trovate abbigliamento di ogni genere, però molto più indicato sulla linea surf Guardate questa Porsche Le catrecche, infatti con i sedili della Porsche, suppongo la giornata è partita un po' uggiosa stamattina, un po' coperta ma si è... si è aperta, eh? Adesso è una bellissima giornata di sole, questo qui è il motorino elettrico Gli amici di Motorcycle Storehouse Eccoli qua Salutiamo la Sandra Salutiamo la Sandra Vi porto a vedere questo qua che fa le insegne Un po' vecchi con le lampadine, un po' così Sì Quindi praticamente fa queste cose qua La Francia Hello! How are you? Very well Yes? What's your name? Alvin Where are you from? Amsterdam Amsterdam Si You built the... The ladder Yeah Yeah All for wheels and waves Wacker Riders La Mesa wheels and waves Back to the Rubik Cinema Sign Ok, thank you so much, good job Thank you See you later Personaggi veramente bellissimi Hello Hello Anche gli amici di Motorcycle Storehouse Abbiamo la Guzzi anche Grande marchio italiano Va Vi faccio vedere questa eh Veramente molto bella Sono un girettino intorno Va che roba Che è questo Guardate che bello Guardate che bello Se volete comprare Questa è in vendita eh Ok, continuiamo Ecco qui nel circuito possono entrare solo moto un po' particolare Che richiamano uno stile Se volete farvi barba e capelli Abbiamo un bellissimo negozio shop Barbershop Allestito alla grande Veramente alla grande Il tutto dentro una vecchia tenda militare Sono stati bravissimi Il tutto L'opposito Si Perchè Nessere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno ragazzi, poi vi faccio vedere quello spettacolo. Abbiamo anche Roland Sand. Buongiorno ragazzi. 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 fantastico stiamo arrivando anche allo stand di questi scalmanati del pdf quest'anno hanno portato la nuova nata con la quale gireremo tranquillamente dopo hai fatto le fiamme anche questa qui è una nuova nata del pdf è una moto come si suol dire pur giuè sono dei pezzi onici ragazzi adesso vi dico il prezzo di questa maglia dalla indiana dai spingi 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 questo è lo stile Wilson Waves ragazzi pochi fronzoli ferro ruggine strapi sulle magliette un po' di semplicità sedute fatte con i bancari in queste tende qua ciao a tutti ciao a tutti grazie per tutti ciao a 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 tutti all'oceano dove poi ci saluteremo io intanto vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per la vostra curiosità perché senza quella davvero non c'è niente qualche moto interessante è parcheggiata anche fuori dall'evento però anche queste fanno evento sottose wills of mins bene coglioni perché sembra che dica le cazzate però a me piace anche sparare cazzate ragazzi questo è il panorama del quale noi godiamo l'evento è praticamente sull'oceano questo è il quanto ah vi stavo dicendo quando c'è l'alta marea questi due giganti qua praticamente vengono sommersi ci avviciniamo un pochino di più anzi vi porto direttamente in spiaggia così vi faccio vedere e spero in questi giorni di fare il bagno perché se l'acqua sarà freddissima andiamo a vedere c'è anche l'amico masper laggiù in fondo ciao masper ti sei riposato personaggio incredibile questo ragazzi 80 anni di uomo ancora in giro con la sua motoretta e si fa chilometri e chilometri in solitudine in totale solitudine andiamo a salutarlo dai velocemente allora masper hai fatto il riposino ma hai dormito hai meditato un po' adesso dai vi porto qua guardate che meraviglia ecco questi due giganti così a occhi e croci sono alti almeno sei metri da dove vedete adesso sono sei metri da qui a qui vengono sommersi dall'alta marea è una cosa incredibile magari poi domani facciamo una diretta veloce la in fondola così c'è il faro di bianrizzo dove è nato tutto quindi dove è nata Wilson waves ok ragazzi io vi saluto è stato un piacere ci vediamo alla prossima il cappellino perché tirò un dente esagerato io non ho i capelli come potete vedere e da un po' fastidio ma non più di tanto forse adesso si è addolcito ok ciao ragazzi alla prossima grazie no Grazie a tutti.